Anche oggi c'è la conta dei casi in condivisione Yoga online e una per i Skype con tanta informazione Cerco tra i post e borderline Sono sei giorni che non esco di casa Il parco mi chiama Metto le scarpe e appena sono fuori Una signora grida Ogni volta che esci Vogliono tredici, vengici Intanto apprezzo che la vita ha rallentato Forse è proprio frenato Mi affaccio e sento che non c'è niente da sentire Ma si può respirare Grazie a tutti Dormo anche di più Penso un nuovo lavoro Con questo comodo orario Da oggi sono il re Nella mia cucina Anche io aprirò un canale Questa distanza sociale Portò più sprint che ideale Visto che il mostro è visibile Sono io il nemico più reale In crisi di mezza età Se chiunque lo può fare Mi metto anche a cantare La 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 Facciamo anche il coro Ma in videochiamata E stambia un metro Non sto sereno Se non bastasse Facciamo due Facciamo tre Manche sei Nove Dodici Quanti metri Ventisette Vai distante Distante Stammi distante Li vedo ancora Devi stare più distante Contano Contano Tutto Impostano Contano la Vivi In Migitare Quanti metri Contano E Grazie a tutti Grazie a tutti.